Musica Buongiorno, grazie, è una manifestazione bellissima perché è una manifestazione colorata e posso dire che sono colori le tanti, quindi veramente grazie, io ti ho detto grazie a tutti venite per me all'università e venire, significa venire nel luogo dove si fa tutta e dove si costruiscono le professioni del domani e questi professionisti sono quelli che devono dirigere l'Italia del domani per portarla fuori dai cambiamenti climatici e per portarci di un ambiente santo si può fare, non credete, ma a quelli che mi dicono che non si può fare, si può fare, facciamo la scelta Con il flash mob uniamoci per l'ambiente abbiamo voluto raccogliere la testimonianza degli studenti universitari essendo i giovani i veri protagonisti più importanti del cambiamento verso uno sviluppo sostenibile e questo è stato particolarmente importante in un evento come quello di oggi in cui si è affrontato il tema del capitale naturale la cui conservazione dipende in maniera imprescindibile dal capitale umano i rifiuti possono in un certo senso rappresentare una metafora della condizione umana una società che utilizza tanto l'usa e getta e produce tanti rifiuti e non è in grado di valorizzarli è essa stessa una società usa e getta e quindi è fondamentale il coinvolgimento dei giovani per cambiare direzione proprio in un momento come questo in cui gli effetti dei cambiamenti climatici sul capitale naturale stanno diventando così evidenti